Piero Di Cristinzi, presidente della FIGC Molise, dunque è un periodo caldo perché adesso si vanno allestendo un po' tutti gli organici, eccellenza, promozione e poi naturalmente a scendere i campionati giovanili, si lavora, devo dire che c'è stata questa sorpresa tra virgolette in positivo, tutte iscritte nel torneo d'eccellenza. Sì, questo è un lato positivo, però ne avevo e ne avevamo già sentore da qualche mese perché negli ultimi anni si è lavorato molto nel cercare di convincere i dirigenti a una gestione molto più oculata dal punto di vista economico. Visto i tempi attuali dove la situazione economica è drammatica, l'unica cosa è ritornare al calcio direttantistico puro di qualche anno fa e questo diciamo che per sommi capi è avvenuto e il risultato si è visto al momento dell'iscrizione dove tutte e 16 le squadre hanno regolarizzato l'iscrizione nei termini e nei modi previsti dalla federazione. Questo sicuramente è positivo e di buon auspicio per il futuro, non da meno anche la promozione dove abbiamo avuto due defiance però che non è che lasciano il calcio, hanno optato per una categoria inferiore e dove ci sono diverse domande di ripescaggio. Ecco, mentre per quel che riguarda i campionati più bassi che poi sono un po' l'ossatura ovvero quelli di prima e seconda categoria c'è qualche novità che ci puoi dire? La prima ha risposto bene anche la prima diciamo però come da prassi sicuramente daremo qualche settimana di tempo più che altro per regolarizzare alcune situazioni che non sono perfettamente in ordine e anche nella seconda categoria, ma quello che è positivo è che attualmente già teniamo la nascita di 15 società nuove che ci sta un cambio di tendenza. Al posto di perdere le società credo che numericamente incominciamo a ritrovare qualche squadra anche in qualche paese dove non si svolgeva più attività calcistiche. Un'ultima cosa è un momento comunque di rinnovamento perché naturalmente a livelli nazionali c'è questa elezione per il presidente naturalmente della FGC è un momento di scontro. Devo dire comunque i casi bisogna applicare un leggero rinnovamento anche perché le indicazioni che sono arrivate dal mondiale che è la massima competizione per nazionali non hanno dato sicuramente dei segnali positivi. Io credo che il teatro che si è creato in federazione è un teatro che riguarda altri aspetti del mondo del calcio. Credo che tutto parte dal discorso dei diritti televisivi che è una massa economica importantissima per la sopravvivenza delle società professionistiche ad i massimi livelli. Molto probabilmente nessuno vuole mollare qualche cosa che può portare a casa. Credo che parte tutto da quello. Poi una frase impropria da parte di Carlo Tavecchio ha creato molta fibrillazione che ancora oggi c'è tanta fibrillazione e c'è incertezza anche su quello che sarà il futuro perché le due ipotesi sono anche un eventuale eventualmente dopo il logorio di Carlo Tavecchio in questi giorni che possa anche rinunciare eventualmente alla carica di presidente federale. Però dall'altra parte c'è che Albertini non ha la maggioranza per poter governare il calcio italiano e poi francamente è quasi impossibile che praticamente un sistema calcio venga gestito solo e esclusivamente da un sindacato che è il sindacato dei calciatori. Questi sono gli aspetti. Bisogna ritrovare un equilibrio importante e giustamente c'è bisogno anche di rinnovi, di riorganizzazione dello stesso sistema, di anche di una trasparenza forse più approfondita che tutti devono conoscere. Perché oggi tutti parlano di questa situazione federale però sono pochi quelli che conoscono effettivamente come funziona la macchina della federazione di danaggio con calcio. Una macchina molto difficile che spesso praticamente va in crisi con i Montiali nel bene e nel male. Abbiamo vinto i Montiali, quella federazione era commissariata. Adesso una defaianza ai Montiali ha prodotto quello che stiamo vedendo tutti. Speriamo che praticamente poi subentri un poco di equilibrio da parte di tutti e si ritrovi la strada maestra.